Martedì 12 ottobre in Puglia si sono registrati 118 nuovi casi di coronavirus su 12.299 test effettuati, 7 le persone decedute. In provincia di Bari 25 sono i nuovi casi registrati, in provincia di Foggia 24, in provincia di Bat 10, in provincia di Lecce 23, in provincia di Brindisi 8, in provincia di Taranto 28. 2.312 sono le persone attualmente positive al Covid-19, 135 le persone ricoverate in area non critica e 20 persone si trovano in terapia intensiva.